La simbolica lapidazione del diavolo, il tradizionale lancio delle pietre contro le tre steli simboleggianti Satana nella valle di Mina, ha segnato questa mattina all'alba la fine dell'Aji, l'annuale pellegrinaggio alla Mecca, e l'inizio delle celebrazioni per la festa del sacrificio. Eid al-Hadda, il ricordo rituale della prova superata da Abramo, venerato anche nella religione musulmana, cui Allah chiese, secondo il Corano, di sacrificare il figlio Ismaele. È per tutti i musulmani la festa della fede e della totale sottomissione al volere di Allah, che fermò la mano di Abramo e gli fece offrire in sacrificio al posto del figlio un montone. Festa celebrata con la macellazione di un montone, una pecora, una mucca o un cammello, e la distribuzione gratuita di una parte della carne del sacrificio ai più poveri della comunità. La festa dura quattro giorni, quest'anno dal 31 agosto al 4 settembre, e in tutto il mondo islamico i fedeli tornano verso le città d'origine per celebrarla. In Bangladesh, come ogni anno, si è ripetuta la scena dei treni, gremiti fino all'inverosimile. In Libia, i migranti hanno potuto celebrare la festività nei campi di detenzione, mentre in Arabia Saudita la celebrazione è coincisa con la conclusione del pellegrinaggio alla Mecca. Quasi due milioni di persone, vestite di bianco, simbolo di purificazione, sono salite sul monte Arafat, una collina di granito alta 70 metri, nei pressi della città, dove, secondo la tradizione, 1400 anni fa circa, il profeta Mahometto pronunciò il suo sermone di addio.